Ora parliamo di un'altra iniziativa, un'iniziativa di solidarietà a sostegno della lotta contro il cancro. Una sfilata di beneficenza, vedete le immagini, organizzata dall'ANT Umbria con la collaborazione dell'Istituto Cavour Marconi Pascal, della Conf Commercio Regionale del Comune di Perugia e che si è svolta presso la Scuola di Lingue Estere dell'Esercito che ha sede nel prestigioso complesso monumentale del Santa Giuliana. Numerosi marchi della moda Umbra che hanno aderito, il pubblico ha potuto assistere alla sfilata e aggiudicarsi i capi proposti con una offerta. L'intero ricavato, oltre ad incrementare il progetto Melanoma Ant, è a sostegno dell'attivazione dell'assistenza domiciliare oncologica gratuita anche nella nostra regione.